Fino al 14 marzo sarà possibile visitare lo spazio Lattuada di Milano, la mostra dedicata a Mimmo Rotella, al grande artista calabrese, conosciuto in tutto il mondo per la sua arte rivoluzionaria. Si tratta del primo omaggio che gli viene dedicato dopo la sua recente scomparsa. Simona Rigoni. I suoi famosi decollage, le sue grafiche originali, i suoi inconfondibili strappi, rivivono in 30 opere di medio e grande formato allestite presso lo spazio Lattuada di Milano. Una significativa testimonianza del genio di Mimmo Rotella, l'artista calabrese conosciuto in tutto il mondo come un grande protagonista della nostra cultura urbana. La vera arte, amava dire, è un gesto rivoluzionario. Rotella, scomparso a gennaio di quest'anno, viene ricordato per la prima volta in questa mostra dove sono esposte alcune tra le sue opere più celebri come Merlin, Veneti Ferla, Bella Penelope. A curare questo allestimento è stata la famiglia Brunacci, Giusi, Giuseppe e Pasquale Brunacci, l'amico che gli è stato accanto fino alla morte, che ha conosciuto l'artista, ma soprattutto l'uomo. A me piace ricordarlo, e l'ho sempre detto fino all'ultimo giorno, che io praticamente gli sono stato vicino così per quella persona, per quella umanità che aveva. e diceva sempre di parlare, è una cosa importante che mi diceva sempre di parlare molto poco, perché mi diceva chi parla poco sa, chi parla molto non sa.